L'Avvocato Nura Musse Ali fa parte della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ed è in quota PD. Ha anche collaborato con Italiani Europei, Fondazione di Cultura Politica di Massimo D'Alema. Sul Tirreno, però, ha rilasciato un'intervista in cui si dichiara a favore del ritorno del regime talebano in Afghanistan. Ovviamente si è scatenato il putiferio e il leader della Lega, Matteo Salvini, ha stigmatizzato le parole della Musse Ali e chiesto a Letta e Gianni di prendere le distanze. Fa parte della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e si è dichiarata a favore del ritorno del regime talebano in Afghanistan. Le parole di Nura Musse Ali, indicata dal PD e intervistata dai media locali, sono gravissime soprattutto perché è pronunciate da una donna. Come si può sostenere un regime guidato da criminali che ammazzano, stuprano, torturano e chiudono in casa le donne? Siamo sicuri che Letta e Gianni prenderanno le distanze, perché l'apologia dell'Islam radicale è incompatibile con la nostra democrazia. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando l'intervista apparsa sul Tirreno.